ecco un elenco dei principali composti di sum abbiamo absum abes afui abesse essere assente davanti a f la b del preverbo di solito scompare in questo caso ad sum formato da ad più sum ades ad fui ad esse essere presente desum dees defui de esse mancare venir meno insum ines fui in oppure infui in esse essere dentro inter sum interes inter fui interesse essere in mezzo partecipare obsum obes obfui obesse nuocere essere di danno essere contro pressum prees prefui preesse essere a capo presiedere prosum prodesse che presenta alcune peculiarità fonetiche su cui torneremo a breve subsum subes fui sub subesse essere sotto essere soggetto supersum superes superfui superesse essere superstite sopravvivere prosum che significa aggiovare essere utile deriva da prod più sum la dentale di si mantiene davanti alle voci che incominciano per vocale cade davanti a quelle invece che cominciano per consonante esaminiamo a titolo d'esempio l'indicativo presente di questo composto di summa la prima persona è prosum con la s perché la dentale cade davanti alla voce che inizia per consonante ma abbiamo prodes tu sei utile la d si mantiene perché la voce inizia per e per vocale così la terza persona singolare prodest egli è utile ma prosumus perché sumus inizia per consonante prodestis voi siete utili la d si mantiene perché estis inizia per vocale ma prosunt essi sono utili la d cade perché la voce inizia per consonante s se consideriamo invece le voci dell'imperfetto indicativo formato da prod più eram eras erat notiamo che la d si mantiene avremo infatti proderam io ero utile proderas tu eri utile proderat egli era utile proderamus noi eravamo utili proderatis voi eravate utili e proderant essi erano utili come si coniuga un composto di sum formato da preposizione semplicissimo basta aggiungere al preverbo le voci di summa per tutti i tempi dei modi finiti e indefiniti prendiamo a titolo d'esempio l'infinito presente perfetto e futuro di ad sum che significa essere presente stare il presente è formato da ad più esse ad esse essere presente il perfetto è formato da ad più fuisse ad fuisse essere stato presente l'infinito futuro è formato da ad più il participio futuro in caso accusativo quindi ad futurum ad futuram ad futurum esse e ad futuros ad futuras ad futura esse stare per essere presente